Ma come detto in primo piano c'è l'emergenza profughi, la regione toscana ha istituito un numero per l'accoglienza dei rifugiati. Chi vorrà potrà mettere a disposizione una sistemazione, una ventina di famiglie si sono già fatte avanti. Il servizio è di Federico Monechi. Una mila di persone avevano già contattato la regione toscana per offrire una sistemazione, altre si sono fatte avanti. Una solidarietà spontanea che ha convinto il presidente Enrico Rossi a istituire un numero per l'accoglienza. 331 69 83 061. Chi volesse mettere a disposizione un appartamento di sua proprietà vuoto o chi volesse anche accogliere in casa propria un profugo può telefonare a questo numero. Noi prendiamo ovviamente gli estremi, garantiamo il massimo della privacy. Il governatore concorderà con le prefetture come impostare il rapporto con i privati e chiederà un incontro anche all'arcivescovo di Firenze, Betori. I profughi però devono riempire le loro giornate svolgendo lavori per la comunità come manutenzioni stradali. La regione ha contattato anche i consorsi di bonifica. Faccia vedere anche i nostri cittadini che non sono venuti qui a bighellonare e mi faccia dire così a vivere alle nostre spalle, ma che contraccambiano e riconoscono questa accoglienza che la Toscana mette in campo, contraccambiando con un'attività utile per tutti. L'appello del Papa alle parrocchie, la decisione della Merkel di aprire le porte della Germania e la foto del piccolo Aylan hanno convinto molti che non ci si può tirare indietro. C'è una svolta che le posizioni ottuse di chi pensava che si potesse fare a meno degli obblighi giuridici, ma anche morali che ci impongono di soccorrere e assistere chi ha bisogno, sono state battute e c'è un moto positivo di solidarietà. Grazie.